Damiano Sicca, direttore enologo di Cantina Clavesana. La Cantina di Clavesana, produttore in langa, oggi festeggia i 60 anni con un vitigno che andrà a riscoprire le nuove radici, accanto ovviamente a quelle del dolcetto, il dogliani, in modo particolare con l'etichetta dell'alta langa, che oggi abbiamo scoperto e ci ha fatto brindare a questo compleanno. Cosa ne pensi e soprattutto che futuro ci regalerà? Ma abbiamo festeggiato oggi i 60 anni, questo compleanno l'abbiamo festeggiato aprendo l'alta langa di OCG. Questo è il nostro primo giorno di apertura della prima bottiglia, un vino su cui puntiamo molto e un vino che sicuramente essendo di qualità ci darà dei buoni risultati. La diversificazione, quindi la scelta di andare a riscoprire dei vitigni sempre autoctoni, ma che non erano tipici, tradizionali, nella scelta della vostra cantina in questo territorio, da cosa è nata? Ma diciamo affiancare a quello che è la produzione del dolcetto, che è un vitigno autoctono, quindi tipico del nostro territorio, affiancare prodotti come lo vitigno chardonnay e il vitigno pino nero per poter fare l'alta langa, aggiungo anche il langnebbiolo, è diventato necessario secondo noi per poter continuare anche a coltivare l'uva dolcetto. Ricordiamo anche che c'è una strategia all'interno di questa prospettiva che state dando ai vostri soci, cioè il fatto di produrre con il 100% delle uve conferite da loro. È una strategia che in qualche modo ha cambiato anche il volto e il livello di qualità della vostra cantina. Sicuramente il 100% del prodotto conferito è stata un'idea vincente, è stato un obiettivo vincente, oggi noi ce ne rendiamo conto perché dopo alcuni anni che sono passati abbiamo notato sicuramente un incremento della qualità, ma non siamo noi che dobbiamo dirlo, sono risposte che noi abbiamo avuto da tutti i migliori assaggiatori in tutto il mondo, andando al Vinitaly e proponendo i nostri vini. Questo è il miglior biglietto da visita che soprattutto una cantina sociale può avere.